Si rivolge ai giovani under 35 della città il progetto CAD, Coinvolgimento Attivo Democratico, presentato al Polo Toti del Comune con i partner ISEC e Euroservice. Cinque le linee d'azione da attuare nei prossimi 12 mesi, tra queste anche la rigenerazione dello spazio Youth Center del Polo Giovane di San Giusto, ma anche azioni mirate a incentivare l'imprenditoria giovanile, la partecipazione dei ragazzi, la loro creatività ed espressione artistica, e infine lo sviluppo di competenze tramite concorsi e stage. Questo progetto che il Comune di Trieste ha vinto in quanto ha partecipato a un bando ANCI finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri permetterà di coinvolgere i ragazzi di Trieste dai 16 ai 35 anni in diverse finalità. La principale è quella di creare un centro di aggregazione, ampliare quindi tutte le possibilità dentro un luogo fisico di trovare delle attività per i giovani, che siano di socialità, di cittadinanza attiva e di creatività, e anche finalizzati a implementare le proprie capacità per trovare lavoro e anche, perché no, creare una propria azienda. Notevole è il valore del progetto, oltre 200 mila euro. Si svilupperà durante tutto l'anno, fino a maggio 2023. Questo progetto ha ricevuto un finanziamento molto cospicuo di 212 mila euro, di cui 40 mila euro di risorse proprie del Comune di Trieste.